e allora si mette qua e noi andiamo No, lo metti là. Stasile, vicino a Luzio. Non ti preoccupare, che non sei lo fare. Stasile. 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 Ci spiegano sempre con i giornalisti. No, per via. Ma è vero, perché quando si dice è più facile. Eccoci. 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 Chi sente? No, mettiamo solo la schermata del seminario.